L'ex Cavallerizza trasformata in palestra per le scuole del centro dopo due anni di lavori finanziati da provincia e fondazione Cassa di Risparmio inaugurata la struttura realizzata nell'ex Cavallerizza Ducale. In titolazione dello stadio Daniele Giusfredi, giovane calciatore di Porcari e studente del liceo Majorana scomparso nel 2013 a soli 18 anni per una grave malattia. Comitato per le celebrazioni di Puccini, la polemica prosegue alla Camera, non si placano le acque intorno ai lavori del comitato presieduto da Veronesi dopo l'intervento dei sindaci di Lucca, Via Regge e Pescaglia, la vicenda anima il dibattito parlamentare. Il calcio, la Reggiana continua a volare, imolese inguaiata dalla lucchese anche il 2023, inizia con la formazione emiliana in testa alla classifica del girone B della Serie C. I rossoneri vincono fuori e relegano Imola all'ultimo posto. Ben trovati con l'informazione del nostro telegiornale edizione di Lucca Piana e Garfagnana. In primo piano, l'avete sentito anche dai nostri titoli, ci occupiamo dell'inaugurazione della nuova palestra che sarà a disposizione di tutte le realtà scolastiche del centro storico all'ex Cavalerizza Ducale. C'era per noi Virginia Torriani. Da antico maneggio del 1800 a moderno e funzionale impianto sportivo per le scuole e la città di Lucca, la nuova palestra ducale Maria Luisa, realizzata dalla provincia con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del MIUR e della Regione Toscana, nell'ex Cavalerizza, lungo l'omonima via del centro storico, è oggi finalmente realtà. La cerimonia di inaugurazione alla presenza delle istituzioni e delle autorità locali è stata occasione per ricordare l'importante opera di recupero dell'edificio, resa possibile grazie ad un progetto della provincia che nel 2018 ha finalizzato un precedente accordo col demanio statale, permettendo all'ente di Palazzo Ducale di entrare nella disponibilità dell'immobile incomodato gratuito. L'intervento ha richiesto due anni di lavori, strappando allo stato di abbandono il vecchio rudere per restituirlo a nuova vita, conservandone la struttura originaria e le caratteristiche peculiari. Questo fino a poco tempo fa era un bosco, erano rimasti solo i quattro muri e c'erano dentro le piante un'area degradata, quest'area è stata riqualificata e viene restituita alla città, viene restituita per lo sport, alle scuole, le scuole superiori, prima di tutto. Allo stesso tempo ha un grande valore significativo, simbolico, quello di una provincia che fa servizi per i cittadini, che torna ad essere molto presente in quella che è la quotidianità e ovviamente questa inaugurazione ad inizio del 2023, che è l'anno di diverse gare di appalto, l'avvio di lavori significativi dal Ponte sul Cerchio a diverse scuole, dalla Versilia, Versilia Storica, Garfagnana, Mediavalle, ovviamente vuol dire anche proprio una provincia sempre di più attiva e attenta a quelli che sono i bisogni del territorio. Tramite quest'opera noi andiamo a rispondere a un'esigenza, quella di fare sport, quella di avere momenti di aggregazione, ma anche quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Adesso andiamo a ripercorrere i momenti della festa inaugurale, un evento atteso e aperto a tutta la città. Con una grande cerimonia inaugurale si è alzato il sipario sulla nuova palestra ducale Maria Luisa. Dopo la benedizione dell'arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, saluti del presidente della provincia, Luca Menezini, alla folta rappresentanza di autorità, istituzioni locali e giovani studenti, intervenuta all'evento. La mattinata è stata aglietata da un intermezzo musicale a cura degli alunni del liceo musicale Passaglia e dall'esibizione delle ragazze dell'ASD Ginnastica Ritmica Lucca, che hanno definitivamente collaudato l'impianto. Una struttura di 830 metri quadrati, suddivisa in due ambienti, destinati all'attività sportiva, è corredata da spogliatoi e locali di servizio, pronta ad ospitare simultaneamente due classi, per un totale di 40-60 studenti. Siamo veramente felici oggi di restituire un complesso come questo, soprattutto alla gioventù di questa città, che è la cosa più importante. Un'opera che rispetta le originali caratteristiche dell'edificio, unendo al contempo la funzionalità delle più moderne dotazioni impiantistiche, come pannelli acustici antiriverbero, riscaldamento a pavimento e illuminazione a LED. Davvero un recupero importante nel pieno centro della città, viene restituito un bene che sarà per attività sportive, ma anche per utilizzo culturale. Circa 2 milioni e 600 mila euro le risorse messe in campo per l'intervento di recupero dell'immobile, un milione di euro dal MIUR, un milione e 200 mila euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ulteriori 400 mila euro assegnati dalla Regione Toscana. Vorrei ricordare che c'è anche un finanziamento, potrà sembrare strano, ma anche del Ministero della Pubblica Istruzione, che va oltre il milione, quindi è proprio una palestra destinata ai nostri studenti. E adesso spazio alla cronaca. L'elissoccorso Pegaso del 118 è intervenuto intorno alle 12 a San Pancrazio, nel comune di Lucca, per soccorrere un uomo di 72 anni rimasto ferito dopo essersi scontrato con un'auto mentre si trovava in bicicletta in via delle Ville Lucchesi, nella zona di Villa Oliva. Oltre all'ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia sul posto è atterrato anche l'elicottero che ha caricato il ciclista, lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa per le ferite alla testa e agli arti. Per ricostruire l'accaduto sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. E adesso voltiamo pagina, andiamo a fare il punto sui contagi, dati che si mantengono stabili, andiamo a leggere insieme i dati più rilevanti. Il tasso di positività all'11%, sono 443 pazienti ricoverati in calo di 6 unità, 23 le terapie intensive, lo vedete non si registrano decessi in Toscana, in provincia di Lucca 26 nuove positività. E adesso ci occupiamo dell'intitolazione dello stadio comunale di Porcari a Daniele Giusfredi, giovane di 18 anni, prematuramente scomparso. Una cerimonia semplice che ha generato commozione a Porcari per l'intitolazione dello stadio comunale a Daniele Giusfredi, giovane calciatore e studente del liceo Majorana scomparso nel 2013 a soli 18 anni per una grave malattia. A scoprire la targa sono stati i genitori Robert Giusfredi ed Elena Fiumalbi, poco prima della finale del primo torneo Memorial dedicato a Daniele, dall'Academy Porcari. Un momento che ha raccolto la comunità intorno al ricordo della parabola sportiva e umana di Daniele, esempio di senaccia nel portare avanti impegni sportivi e scolastici con passione e serietà. Oltre al sindaco Leonardo Fornaciari e le istituzioni a salutare l'intitolazione è anche il presidente dell'Accademy Porcari Stefano Silla, il dirigente del liceo Majorana e il parroco di Porcari. È un'intitolazione se da un lato è sofferta perché richiama un momento di dolore, dall'altro deve essere un momento di gioia, un modo per andare avanti. Questo per noi, lo abbiamo detto tante volte, è lo stadio dei giovani, dei ragazzi. È un riconoscimento da parte della comunità di un ragazzo che è stato veramente importante e amico di tutti. Per me come padre sono 10 anni che è morto ma sono come se fossero 10 giorni. Il giovane si deve creare sportivamente e umanamente. Noi stiamo facendo di tutto per badare anche dal punto di vista umano e spero che intitolando questo stadio ad un giovane sia di buon auspicio per tutti. Torniamo a parlare del comitato per le celebrazioni del centenario di Giacomo Puccini dopo l'ultimatum dei sindaci di Lucca, Viareggio e Pescaglia. Adesso il dibattito, o meglio la polemica, si è spostata alla camera. Sentite. Le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini rischiano di rivelarsi un fallimento. Dopo l'ultimatum dei sindaci di Lucca, Viareggio e Pescaglia, il caso Veronesi a seguito dell'indiscrezione di una sua possibile candidatura alle elezioni Lombarde prosegue in Parlamento. Prima l'interrogazione dei 5 Stelle, depositata dopo le dimissioni del tesoriere, le sedute saltate per mancanza del numero legale. Adesso quella del Partito Democratico, firmata da Irene Manzi e Marco Simiani. Il comitato promotore, presieduto da Alberto Veronesi, non è stato ad oggi in grado di gestire le risorse disponibili che rischiano quindi di rimanere inutilizzate, dichiarano in una nota congiunta. E così continua l'impasta che sta di fatto bloccando i lavori per le celebrazioni del centenario del maestro. Parole di fuoco quelle contenute nelle dichiarazioni dei deputati PD. La gestione degli eventi all'interno del comitato è stata finora fallimentare e rischia di causare una figuraccia internazionale che screditerebbe l'intero paese. Il governo deve intervenire con rapidità ed efficacia per risolvere questo disastro, dichiarano. E infine, dalle fila della maggioranza del Consiglio Comunale di Lucca, è arrivata la richiesta del consigliere Daniele Bianucci, che si appella al sindaco Pardini per chiedere di rimuovere l'obbligo di segretezza sugli atti e lavori del comitato per le celebrazioni di Puccini. Ci auguriamo che il primo cittadino, conclude, ci sostenga in questa battaglia per la trasparenza. In palio ci sono 9 milioni di euro, un'opportunità unica per lo sviluppo economico del territorio che interessa i tre comuni della provincia. Voltiamo decisamente pagina, prendiamo spunto da una presa di posizione del primo cittadino di Camaiore, Marcello Pierucci, su un argomento che è di portata più ampia, che interessa di fatto l'intero territorio provinciale. Il primo cittadino ha criticato duramente il decreto scavi. Sentiamo perché in questo servizio di Luigi Casentini. Duro intervento del sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, sul decreto scavi. La legge ministeriale che consente alle società, soprattutto per quanto riguarda la fibra ottica, di intervenire direttamente e in autonomia sul fondo stradale, con scavi per piccoli interventi, anche di non urgenza. Da un giorno all'altro, fa notare il sindaco, vengono aperti scavi anche in asfaltature appena stese, distruggendo le strade senza sufficiente preavviso e senza che l'amministrazione abbia voce in capitolo riguardo il ripristino del matto stradale. In particolare, però, adesso dobbiamo fare questi conti con l'ampliamento della fibra ottica, che viene realizzata sulla base di un decreto legge del 2016, che in sostanza non solo consente alle società che gestiscono la fibra ottica di intervenire senza nessuna autorizzazione dell'ente, ma che addirittura detta le norme per i ripristini, cioè il Comune non è più nemmeno padrone di poter pretendere un ripristino stradale alla forma originaria come sarebbe il suo sacro santo diritto. Emblematica la situazione che si è venuta a creare nella zona di Lido di Camaiore e sulle piste ciclabili appena terminate. In particolare noi abbiamo Lido di Camaiore, dove per esempio abbiamo due strade come Via Gasparini e Via Adua, dove il Comune ha speso centinaia di migliaia di euro per renderle decorose nella nostra frazione di Lido di Camaiore, nel quale già assistiamo a manomissioni inaccettabili, soprattutto al di là della manomissione a ripristini inaccettabili da parte dei soggetti che hanno eseguito i lavori. Nasce nell'appennino tosco-emiliano un nuovo modello di gestione delle foreste e la Garfagnana è protagonista. Sentite Luca Galeotti. Presso la sede dell'Unione Comune Garfagnana a Castelnuovo i massimi rappresentanti del Parco dell'Appennino tosco-emiliano hanno presentato il piano che permette alle imprese di acquisire crediti di sostenibilità, usufruendo di boschi che rispettano le caratteristiche richieste dal progetto e che sono presenti all'interno del Parco. Quella proposta dal Parco è la prima operazione del genere adottata in Italia, come hanno sottolineato i relatori. Dopo i saluti del Presidente Tagliasacchi sono intervenuti Fausto Giovannelli e Raffaella Mariani, Presidente e Vicepresidente del Parco dell'Appennino tosco-emiliano. In collegamento è intervenuto anche l'assessore regionale Stefania Saccati. Tutti gli interventi hanno sottolineato i tanti aspetti positivi dell'iniziativa che offre vantaggi sia ad aziende che a proprietari di aree boschive. Soprattutto per i proprietari di foreste che possono vedere riconosciuto il grande lavoro della gestione sostenibile e responsabile delle loro foreste. E dall'altra parte, naturalmente, anche da parte di aziende virtuose che decidono di impegnarsi da un punto di vista della sostenibilità acquistando crediti di sostenibilità che ovviamente consentono loro di presentarsi sul mercato più neutrali da un punto di vista delle emissioni, delle CO2. Ovviamente al momento il progetto non può riguardare un singolo proprietario in quanto è necessario gestire aree piuttosto estese. Il progetto sembra essere invece l'ideale per comuni, usi civici o anche consorsi di privati. Da sottolineare inoltre che i boschi legati al progetto non hanno vincoli restrittivi. No, in realtà non ci sono vincoli da un punto di vista formale. C'è semplicemente la messa in valore dei servizi ecosistemici delle foreste anche da un punto di vista economico. Quindi gli incassi possono poi essere utilizzati da parte dei proprietari per la gestione forestale del proprio patrimonio. Prosegue su Noi TV la stagione dei grandi classici e stasera è la volta di Moby Dick, la balena bianca. Ce ne parla Virginia Torriani. Questa sera alle 21.15 su Noi TV torna l'appuntamento con il grande cinema. Per il ciclo I classici di Noi TV in onda il capolavoro diretto da John Huston con Gregory Peck e Orson Welles. Moby Dick, la balena bianca. Il colossal del genere avventura tratto dal romanzo di Herman Melville narra l'epopea marinaresca di Ismaele, giovane marinaio imbarcato sulla balaniera Pechiod, la nave comandata dal capitano Eichab, un uomo alla fanatica ricerca della balena bianca Moby Dick, alla quale deve la perdita di una gamba dopo uno scontro in mare. Il capitano promette una moneta d'oro a chi avvisterà il cetaceo, ma durante il viaggio l'inquietudine si impossessa degli uomini. magnifica fotografia e atmosfere emozionanti. È il momento dello sport, passiamo al calcio. La Serie C, come ogni inizio settimana, andiamo a vedere i gol della giornata del campionato di Serie C. Girone Bill, commento a questo turno, è di Giulio Del Ferentino. Reggiana vince 4-0 in casa contro il Siena e consolida il primato nella classifica della Serie C. Girone B, i giallorossi allungano sul gubbio, mentre il Cesena tiene il passo battendo nel derby tutto romagnolo in Rimini 1-0. Ma torniamo alla capolista. Capolista che vince già nel primo tempo la sua partita portandosi in vantaggio al 33esimo con Muroni e raddoppiando prima dello scadere con Pellegrini. I gol di Cabasci al 25esimo della ripresa e Lanini al 36esimo chiudono la gara di fatto contro i bianconeri. Tiene il passo come detto il Cesena che vince 1-0 contro i Rimini. Più avvincente la lotta per non retrocedere. Con Limolese che oggi occupa l'ultimo posto dopo la sconfitta interna con la Lucchese maturata già nel primo tempo. L'Aquila Montevarchi fa un passo in avanti nel primo tempo ma poi non riesce a contenere l'Olbia che così si tira fuori dalle sabbie mobili dell'ultima posizione. Aquila in vantaggio al 24esimo con Lischi raggiunta al 40esimo da Contine e poi il solito Ragazzo chiude il conto al cesto del secondo tempo. Il Sandonato Tavarnelle perde invece in casa contro la Torres. Di Achite porta in vantaggio i Sardi e Lombardo raddoppia al 33esimo. Prima della fine della prima frazione Marzieri accorcia le distanze per il Sandonato. Di Achite ancora al 40esimo del secondo tempo chiude il conto. Male la Carrarese che perde 4-2 sul campo della Re Canatese. Sbaffo porta in vantaggio i giallorossi padroni di casa al 13esimo del primo tempo. Al quarto della ripresa Energe pareggia per la Carrarese ma è un fuoco di paglia perché al 12esimo Carpani segna il gol del 2-1 e poi porta sul 3-1 i padroni di casa con una rattrarete e la sua doppietta personale al 20esimo della ripresa. La Re Canatese chiude il conto con guadagni al 35esimo il gol che chiude definitivamente la gara sul 4-2 lo segna Cerretelli per la Carrarese. È lutto a Badia Pozzeveri e Alto Pascio per la scomparsa di Luciano Birindelli che ci ha lasciato a 79 anni. Birindelli, storico gommista di Alto Pascio ha racconosciuto da tutti per il suo costante impegno per il paese e l'amore per il calcio giovanile grazie al quale è sempre stato vicino al Tao Calcio e la Cuoio Pelli ai familiari, le condoglianze di Noi TV. Ed è tutto per quanto riguarda l'edizione di Lucca Piana e Garfagnana grazie a tutti voi per averci seguito fin qui adesso una breve pausa pubblicitaria poi come sempre la linea passa al telegiornale della Versilia e in studio ci sarà Luigi Casentini